Con un'ordinanza del comune di Caltanissetta, direzione quinta, Polizia Municipale, CED, Affari Legali e Contratti, del 12 marzo viene chiuso al transito veicolare per donare un tratto della via Manfredi-Ciaramonte nella zona industriale di Caltanissetta, un provvedimento che arriva a seguito di un sopralluogo e di una nota con la quale si legge la sezione ambiente della Procura della Repubblica di Caltanissetta, segnalato che a seguito di un movimento franoso che ha causato lo sprofondamento del manto stradale sulla via Manfredi-Ciaramonte nella zona industriale, si sono prodotti in più punti profonde buche che recano grave pericolo alla circolazione veicolare e pedonale. Tra le strade diventate di competenza comunale, dunque, vengono sistemate delle nuove transenne per delimitare l'area interessata nella zona industriale nissena, dove già per lavori avviati la scorsa estate sono presenti altre transenne appartenenti ai cantieri avviati, uno per la zona sud e uno per la zona nord, per il recupero e rifunzionalizzazione delle infrastrutture viarie e degli impianti esistenti e quindi per una riqualificazione globale dell'area, lavori a cura dell'IRSAP che riguardano la ricostruzione della sovrastruttura stradale dei marciapiedi, ammodernamento dell'illuminazione, interventi per la segnaletica stradale, sulla rete idrica, rete a fibre ottiche, impianto elettrico e installazione di dispositivi di sicurezza stradale, come dossi e delimitatori.